Il grande fiume scorreva placido fra i campi della bassa e i pioppi gli raccontavano incredibili favole vere. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. C'era una città, una città dove c'era un re, aveva mura forti attorno. Il re era ben voluto, i terreni attorno davano buoni frutti. L'esercito per difendere quella città era forte, importante. Quella città era piena di monumenti storici, di arte, perché il re era un illuminato e perché gli abitanti di quella città erano tutti artisti, tanti artisti. L'arte era importante, c'era chi dipingeva, arrivavano anche artisti da fuori. Però questa città era molto appetibile. Il re ha sempre dei consiglieri. Non tutti fanno il bene del re, ma fanno il proprio gioco. E un consigliere comincia a mettere, a instillare piano piano nel re la paura. Sai, dice, è una città bellissima questa. È appetibile. Ci sono dei re molto più potenti, che hanno eserciti più grandi del nostro. Magari tenteranno di conquistarla. Secondo me, dovremmo chiamare dei mercenari. R dice, ma i mercenari, abbiamo il nostro esercito. Sì, ma il nostro esercito non basta, chiamiamo dei mercenari, perché ci sono dei problemi. Cioè, se ci attaccano il nostro esercito, ma il nostro esercito è forte. Sì, abbiamo mure forti, abbiamo armi per difenderci. Sì, ma secondo me, alla fine, il consigliere riesce a far entrare la paura e quindi a convincere il re a pagare e chiamare dei mercenari per difendere. Chiaramente, una parte del denaro che il re paga per i mercenari vanno nelle tasche del consigliere. del re traditore. I mercenari arrivano nella città. Primo nemico dei mercenari qual è? L'esercito interno. Perché? Perché loro, per contare, per avere potere, devono eliminare l'esercito interno, no? Devono annientare queste difese immunitarie della città. E i mercenari hanno delle controindicazioni, cioè sono violenti, si ubriacano, non hanno valori, violentano le donne, eccetera, no? Quindi la città comincia a non essere più bella come prima. L'esercito della città comincia a subire perché loro non sono violenti come i mercenari, eccetera, no? A questo punto il consigliere dice qui la situazione, come vedi, il nostro esercito, c'è chi diserta, c'è chi si è scontrato con un mercenario ed è morto, c'è chi invece l'hanno ferito, cioè qui, secondo me, dovremmo chiamare altri mercenari, una seconda dose di mercenari, dovremmo chiamare, e lui dice eh ma è altrimenti qui come facciamo a difenderci? E facendo così altri mercenari arrivano. Chiaramente parte dei soldi dati ai mercenari tornano in tasca del traditore. Gli altri mercenari chiaramente si alleano perché chi gestisce i mercenari in realtà è un re molto potente che vuole conquistare quella città. Per conquistare quella città deve indebolire le difese di quella città. Per farlo i mercenari sono l'ideale. Quindi altri mercenari arrivano violenti, di qua, le donne, eccetera, solita storia e alla fine il consigliere dice qui è un casino perché cominciano ad arrivare notizie che quel re potente, potentissimo si sta muovendo per venire a conquistare questa città. Allora cosa fa? Chiama una terza dose di mercenari. Avanti, pagati un po' di soldi in tasca al consigliere e a questo punto cosa succede? Che quando arriva il re ormai lei è il re potente ormai i mercenari hanno praticamente annientato le difese che c'erano in origine in quella città essendo poi venduti vengono comprati dal re e quel re conquista per due lire una città piena di arti di cultura eccetera. Sembra una favola con un brutto finale no? Ma non è così perché? Perché alcuni abitanti di quella città diciamo gli abitanti più svegli più risvegliati quando sono arrivati i primi mercenari hanno capito come sarebbe andata a finire e se ne sono andati se ne sono andati lontano tra i campi dove hanno creato delle comunità dove hanno lavorato la terra hanno fatto crescere frutti verdure eccetera e lontano dal clamore hanno creato un piccolo luogo non appetibile dai ricchi potenti però ideali per fare una vita serena e bella lontano da questi rumori. Questa è un'altra delle storie che il grande fiume raccoglie sulle rive della bassa e porta al mare favole che sembrano storie vere o storie vere che sembrano favole difficile poterlo stabilire difficile di Grazie a tutti.